Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo Two Minutes Ready. Pian piano ci avviamo verso la fine. Oggi parliamo di Fuck Gauscia. Sarà un Two Minutes Ready abbastanza particolare. Per prima cosa ascoltiamo. Allora, credo che questo sarà il primo Two Minutes Ready dopo un anno in cui non partiremo dalle note. Infatti non saprei sinceramente che note dirvi. Poiché cambiano radicalmente in base al suono che utilizzate. Quindi per prima cosa, questa volta, cercheremo il suono. Il suono in questione a trovare in realtà è molto semplice. È un'onda square. Una normale onda square suona così. E ascoltandola potreste benissimo pensare. E che, 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 che cos'è? Guardate invece cosa succede se io scendo con le ottave. Quella che sembra una velatissima puzzetta in realtà è il suono che ci serve. In questo caso, con questo tipo di suono, le note dovrebbero essere Partendo dal basso, mi bemolle, la bemolle, la bemolle su di un'ottava, do su di due ottave. Poi, mi bemolle, la bemolle, la su di un'ottava, do diesis su di due ottave. Ma come dicevo prima, cambia in base al suono che utilizzate. Per me potrebbero essere giuste con questo suono, per altri no. Direi comunque che ci siamo avvicinati abbastanza. Grazie mille per aver seguito questo Two Minutes Ready. Io vi ricordo, come sempre, di consigliarmi un nuovo brano nei commenti E di visitare il mio Patreon se volete supportare il canale. A presto! La sto impiccando con un cappio di rubini Fa un culo te e la tua coscia rubinski La mia faccia su una cazzo di rivista Tennis di smeraldi sembra levissima Bling, bling, ho speso avrindonne bottiglie Scusa ma